Nei giorni scorsi i carabinieri delle stazioni di Maschali e Riposto hanno eseguito due arresti in esecuzione di due distinti provvedimenti restrittivi emessi dall'autorità giudiziaria etnea. Arrestati il 57enne Salvatore Tarda e il 25enne Andrea Fazio. I provvedimenti restrittivi derivano dagli arresti operati dai carabinieri il 6 febbraio scorso. Tarda è stato arrestato perché trovato in evidente violazione della misura detentiva che lo obbligava agli arresti domiciliari. Durante l'udienza per direttissima il giudice, su richiesta dello stesso imputato, ha applicato il giudizio immediato che è costato al malvivente una condanna ad un anno di reclusione da scontare nel proprio domicilio. Andrea Fazio, già ai domiciliari, è stato arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti, nonché detenzione illegale di munizionamento da guerra. Il giudice, in sede di giudizio per direttissima, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trasferito dal proprio domicilio al carcere di Piazza Lanza a Catania.